Forse sono anche le stesse persone, almeno uno di loro sicuramente, confrontando le immagini. Adesso non lascerò correre e andrò a fare denuncia. Ad affermarlo è Don Dino Arcero, parroco della chiesa di Santa Petronilla, Siena, dopo il quarto tentativo di furto della corona illuminata della Madonna che si erge ai piedi della scalinata. Tentativo documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo stesso parroco ha pubblicato sui social network. Cosa direi a queste persone? Che trovino un altro modo per divertirsi, commenta il parroco della chiesa di Santa Petronilla, che appena pochi giorni fa aveva chiamato un operaio per far rimontare la coroncina di luce appena acquistata. L'aveva fissata in modo particolarmente forte sulla testa della Vergine, tanto è vero che questa volta il malvivente non è riuscito a prenderla. Una vicenda incredibile, dal filmato si vede il terzetto fermarsi davanti alla statua. Con fabola non sembrano allontanarsi. Poi uno torna indietro e strappa il filo della corrente spengendo la coroncina. Infine i tre se ne vanno tranquillamente.